amici del fai da te oggi andiamo di riciclo andremo a recuperare questo vecchio vecchissimo spazzolino che è destinato alla discarica per farne che cosa per andare a creare una specie di scovolino per pulire contenitori diciamo difficili da pulire soprattutto all'interno state con me andiamo a scaldare con un accendino oppure potete utilizzare anche una candela scaldiamo qui al centro e poi andiamo a piegare aspettiamo che la plastica secchi e voilà il gioco è fatto come vedete abbiamo riciclato il nostro spazzolino possiamo andare appunto a pulire dei piccoli oggetti dove è difficile entrare come in questo caso andremo a ripulire questo spruzzino se questo video vi è risultato utile vi è piaciuto come sempre un bel pollice all'insù spolliciate ma soprattutto iscrivetevi al canale ciao alla prossima ciao